Musica Bene, bentornati in diretta per il consueto appuntamento del lunedì con Primo Cittadino Do subito il benvenuto al sindaco di Fano Massimo Seri Bentornato nei nostri studi sindaco, buonasera Grazie e buonasera a tutti i telespettatori I numeri di telefono per intervenire in diretta 0721 86 14 33 per parlare con il primo cittadino oppure potete inviarci dei messaggi anche con Whatsapp Devo dire che ci hanno inondato di messaggi tra ieri e oggi ma anche nel corso della settimana Sindaco ho almeno 50 domande Quindi devo preoccuparmi Cerchiamo di essere magari brevi con un botte risposta per dare spazio a tutti i nostri telespettatori Ma partiamo dall'annuncio che è stato fatto questa mattina dal presidente Acquaroli durante un collegamento in diretta Mentre il direttore Marco Ferri leggeva i quotidiani Insomma abbiamo fatto diversi collegamenti in esterna E ha annunciato appunto un'ordinanza anti-assembramenti Secondo lei è utile? Beh dipendono un po' dalle condizioni Però penso di sì perché La situazione è sotto gli occhi di tutti Il numero dei contagi tende ad aumentare Anche se dobbiamo dire la verità Che nella nostra città ancora sono contenuti rispetto al resto della regione Anche al resto d'Italia E poiché siamo anche un po' indisciplinati Alcune volte non sempre usiamo la mascherina Che ricordo è fondamentale e importante Perché sono gli strumenti minimi di garanzia per tutelare noi stessi e tutelare gli altri Quindi quelle condizioni che possono migliorare il distanziamento Penso sia utile Un messaggio che è arrivato questa mattina Per quale motivo le forze dell'ordine non controllano coloro che si muovono indisturbati Senza mascherina oppure con mascherina posizionata sul mento È opportuno farsi aiutare dall'esercito? Chiedono Beh intanto devo dire che noi abbiamo aumentato la presenza delle forze dell'ordine nella città In questo fine settimana sono arrivati anche rinforzi concordati con la prefettura In seguito all'ultimo tavolo provinciale Anche la presenza della Repubblica Municipale è aumentata negli orari Poi chiaramente le persone sono tante Non è che si può essere sempre dappertutto Io ripeto però la differenza la facciamo sempre noi con i nostri comportamenti A Pesaro come ha visto e sentito è stato istituito questo senso unico Nelle vie del centro storico ma anche per il mercato cittadino Lei è d'accordo con questa iniziativa? Beh noi non l'abbiamo condivisa Nel senso nel mercato cittadino lo stiamo facendo da tempo Anche da quest'estate noi abbiamo subito istituito i sensi unici Il distanziamento Mentre per il corso, per la via principale I sensi unici non li abbiamo adottati Perché poi bisogna garantirli Il problema non è tanto il senso unico Quanto mantenere il distanziamento E fare in modo che tutti rispettano le regole elementari Poi se avessimo dovuto mettere il senso unico Avremmo concentrato tutte le forze anche di controllo In una via magari disperdendo persone Che potevano essere utili più sparsi in varie zone della città Torniamo sindaco per un attimo a parlare degli ospedali unici provinciali Perché dopo lo stop che è arrivato la scorsa settimana da parte della Regione Marche Lei ha chiesto un incontro ad Acquaroli a Saltamartini Assessore alla Sanità Ha delle novità? È stato fissato questo appuntamento? Sì ho chiesto un incontro perché mi sembra anche doveroso Però non c'è ancora alcun appuntamento Ma io immagino che il Presidente, lo stesso Assessore alla Sanità Voglia confrontarsi non soltanto con il Sindaco di Fano Ma anche con gli altri territori So che a breve ci sarà un incontro con Anci Fra l'altro io sono il Delegato Sanità di Anci Marche Quindi sarò il primo interlocutore Non solo per quello che riguarda la città di Fano Ma per quello che riguarda proprio le politiche sanitarie regionali Questa mattina il Comandante della Polizia Locale di Fano Narita Montagna ci spiegava che in realtà ci sono tanti occhi Sulla città di Fano grazie alle telecamere di videosorveglianza Nei giorni scorsi la Lega comunque chiedeva di posizionarne alcune In particolare però nei quartieri per tenere sotto controllo quello che accade Che cosa è previsto a riguardo? Beh intanto vorrei ricordare che quando mi sono insediato nella città di Fano Non esisteva una sola, ripeto, una sola telecamera in funzione Ce n'erano vecchie sei, fra l'altro di vecchia generazione Posizionate in alcuni quartieri non funzionanti Noi le abbiamo riattivate ma abbiamo fatto una cosa più mirata Abbiamo fatto un piano di videosorveglianza della città Concordato con le forze dell'ordine E abbiamo iniziato un percorso E oggi se giriamo per la città vediamo tante telecamere posizionate Che hanno innanzitutto uno scopo Quello di controllare gli ingressi e le uscite dalla città Perché chi va a delinquere viene da fuori E quello è il primo elemento importante E proprio il controllo degli ingressi e le uscite della città Non li abbiamo ultimati ma come potete notare In quasi tutti gli accessi della città Sono posizionate telecamere di ultima generazione Che hanno una duplice funzionalità Ne vedete parecchie in una sola postazione Sono quelle ambientali che riprendono il quadro, la situazione E poi sono quelle mirate che danno tutti i dati Dei mezzi che vi percorrono e vi transitano Inoltre abbiamo posizionato alcune telecamere in alcuni quartieri Che hanno uno scopo diverso Sono mirate più alla vita interna Ne abbiamo anche incrementate rispetto al passato Prevediamo di incrementarne delle altre In alcune zone magari che si prestano più a ritrovi e a piccoli atti Perché dobbiamo distinguere fra i fenomeni che ci sono nei segni di quartiere I fenomeni di criminalità Anche se dobbiamo riaffermarlo Fano è una città dove si vive bene Adesso non possiamo descrivere Fano come il Bronx Sarebbe ingeneroso Fra l'altro è una città scelta da tante persone Anche per venirci a vivere Perché gli indicatori la descrivono come una città dove si vive bene Eccola qua, questa è la foto a cui faceva riferimento questa mattina la comandante Ieri sera alle 23 e 15 Sì, fra l'altro devo dire che tutti i fatti criminosi sono verificati negli ultimi 5 anni Hanno avuto tutto un esito positivo Grazie al buon operato delle Forze dell'Ordine Che bisogna sempre ringraziare E lo faccio volentieri perché so che fanno un bel lavoro Ma è grazie anche al lavoro che abbiamo fatto Con questo posizionamento che ha aiutato a fare l'indagine E arrivare alla giusta soluzione Iniziamo dai messaggi Allora, ci sono problemi all'illuminazione del parcheggio a servizio dell'autostrada, Sindaco? Non ci sono problemi Sono ancora spenti perché non è ancora perfezionato il passaggio Da società autostrade all'amministrazione comunale Proprio venerdì siamo stati dal notaio per il passaggio È avvenuto questo Faremo il passaggio ad Ase che gestisce l'illuminazione pubblica della città E quindi a brevissimo saranno accesi Nella rotatoria di via Roma all'intersezione con via Pertini C'è un sottopassaggio pedonale Dovremmo avere anche delle foto perché ci sono arrivati Devo dire più messaggi per questa segnalazione E dicevo che c'è questo sottopassaggio pedonale chiuso e abbandonato da anni E chiedono perché non fare nulla Eppure vi è stato segnalato tante volte Eccolo qua, vediamo il degrado Però è chiuso ormai da tanti anni Questo è un problema annoso che si ripresenta puntualmente dalla sua nascita Quello purtroppo è un progetto pensato male Quando le cose non sono fatte col giusto senso Queste diventano le conseguenze Purtroppo non si può neanche interrare Perché da lì si accede al sottorotatorio dove ci sono gli impianti della vasca E quindi è necessario arrivarci Non viene utilizzato E purtroppo la gente che è anche maleducata Perché quello è il risultato della maleducazione delle persone Dobbiamo dirlo perché siamo sempre a lamentarci E' giusto perché dobbiamo fare ognuno il nostro dovere Ma è anche il risultato dell'inciviltà delle persone Quindi lei dice che non conviene comunque riaprirlo? No, quello non lo usa nessuno Perché è stato pensato male Poi lì c'è un accesso Il miglior cosa sarebbe sotterrarlo Così il problema non si pone Perché tanto non è utilizzato Si passa sopra Sopra c'è la pista ciclabile C'è l'accesso all'attraversamento pedonale Però c'è anche l'accesso Come dicevo agli impianti sotto la rotatoria Quindi diventerebbe un problema C'è qualcuno al telefono che vuole parlare con lei Buonasera Buonasera Il sindaco è qua che l'ascolta Sì grazie Io ho telefono da peso Spero che sia dato udienza in Pesarese Come no? Ah no, neanche perché ho stima di lei il sindaco Ho parlato, la conosco E ho visto che ha operato benissimo a Fano La ringrazio Rispetto alla presidente di amministrazione Però io ho la memoria di un elefante Due anni fa le feci la domanda A proposito lì della strada Che da forse sei ore conduce su Rocco San Baccio Sì E lei mi ha detto infatti che è in condizioni pessime E tuttora è in condizioni pessime Una parte, un pezzo la prima parte Sì esatto, bravo Ci siamo Ma veramente adesso non è per fare così È una sottolineatura polemica Però è pericoloso Io sono un ciclamatore Quando passo lì Devo stare proprio come si dice All'orecchio Come dicono qui a Pesaro Sarebbe opportuno insomma intervenire Tra l'altro C'è anche quella questione Ma lì penso che sia più difficile Di sistemare tutte La via d'accesso Di collegamento Tra la ciclabile Che viene da Pesaro Passando sotto via Lì E poi che si ricongiunge E lì diventa pericoloso Perché si fanno delle manovre Come ciclisti Che si va in senso contrario Tanto per essere Per essere proprio precisi Lì nel ristringimento Della ciclabile Guardi però non mi posso sottrarre Anche a una domanda Di tipo più Diciamo che riguarda L'ospedale Sì Prego Anche perché mi ricollego All'ultima sua affermazione Che ha chiesto un incontro Con la giunta Con Santa Martini Acquaroli Non sarebbe stato più opportuno Che i due sindaci Di Fano e di Pesaro Sulla questione Andassero insieme Così si ha più Voce in capitolo Anche perché A me pare che questa giunta Insomma Il territorio di Pesarese Lo consigliere come Un territorio Diciamo adesso Non vuole essere polemico Ma di serie B Di sicuro E' d'accordo per curiosità Su questa scelta Che ha fatto la regione Di bloccare Il procedimento Il progetto Assolutamente no Questo è questo Assolutamente no Perché Se rimaniamo Con questi due ospedali Che io conosco Sia quello di Fano Che quello di Pesaro Veramente Noi non ne usciamo Con una sanità All'altezza Di quella che sono Le richieste Da parte dell'atente Punto Non mi dirungo Grazie per questo Suo intervento Sindaco Quindi strada Allora Intanto sulla strada Mi ricordo bene Adesso ricordo anche La telefonata E concordo pienamente Tutta la strada Tutta la strada che porta Rocco San Baccio E' stata asfaltata Venendo da Finile E' la tratta che porta Pesaro verso Trebbiantico Mentre è rimasto L'ultimo tratto Che collega Con la statale E' una di quelle Nell'elenco Possibilità permettendo Noi abbiamo adesso In corso Un appalto Che è ancora Lì in attesa Di essere Pubblicato Per interventi E devo dire la verità In quell'elenco Non è previsto Adesso noi Ogni anno Dovremmo fare Una serie di interventi Di strada Asfaltare Fra l'altro Quella è anche Trafficata Perché Congiunge Proprio con La statale Per cui Non sono in grado Di dire Quando lo faremo Posso dire Che lo faremo Però ecco Se il prossimo anno O quello successivo In questo momento Non sono in grado Di dirlo Per quello che riguarda La sanità Io ho una preoccupazione Perché qui Sono vent'anni Che parliamo Di riorganizzazione Della sanità E nei fatti Si rimane sempre Fermi Allo stato attuale Abbiamo due strutture Che sono considerate Un'unica struttura Ma a 10 km L'una dall'altro E la conseguenza Che mettiamo Sotto stress Gli operatori I medici E anche Chi ne esufruisce Perché Io dico sempre Quando stiamo male Quando stiamo bene Facciamo tutti i ragionamenti Possibili e immaginabili Quando stiamo male Poi cerchiamo le strutture Adeguate Con professionisti Di qualità E tecnologia avanzata E questa c'è solo Nelle strutture Di un certo tipo Che hanno certe prestazioni Allora Ossi Qui è partito Negli anni 90 Perché poi i percorsi Sono lunghi È partito un lavoro Di integrazione Ma l'integrazione Porta ad una nuova struttura Perché Giustamente Si era detto Due ospedali così vicini Non possono avere doppioni Cerchiamo di integrarli Ma L'integrazione Può venire Da un corridoio all'altro Non da Una struttura all'altra Dove le ambulanze Dovano fare 10 chilometri Per portare il paziente Per esigenze particolari Per cui O si va Fin in fondo Con la creazione Di una nuova struttura O la regione Ha il coraggio Di dire Vogliamo cambiare Il piano sanitario Quindi tornare Completamente indietro E si ritorna a ragionare Su due strutture Ospedali Io penso che oggi Non ci siano le condizioni E poi Anche la gente Al di là Delle strumentalizzazioni Delle polemiche Politiche Ma poi guardiamo La sostanza Penso che preferiscono Avere anche Una struttura Nuova Adeguata Che dia Risposte Poi questo Non significa Chiudere anche Le altre strutture C'era una soluzione Che vedeva La nuova struttura Con la permanenza Del Santa Croce Come ospedale Io spero che questo Venga mantenuto Però oggi La competenza È del Cioè come sempre La competenza sanitaria Della regione E sono appena eletti Io non sono Tra quelli che Come uno si insiede Inizia a criticare Non mi sembra giusto Ridevo Quando lo facevano Nei miei confronti Perché diventano Critiche esterle Bisogna dare il tempo Anche di intervenire Di operare Però ecco Deve esserci Chiarezza Avere il coraggio Anche se si vuole cambiare Di dirlo fino in fondo E non chiamare Le cose con altri nomi Per nascondere poi Le volontà Perché io capisco In campagna elettorale Si fanno promesse Di dicono determinate cose Per conquistare il consenso Poi quando si traduce in realtà In azione Le cose poi Non ritornano Sempre Bisogna giustificarsi Anche se in realtà Pare sia una decisione Definitiva Quella della regione Marche Ovvero Quello si capisce bene Perché hanno detto Implemento della sospensione Nella zona Della struttura di Muraglia Ma Dice però Costruiremo comunque Una struttura Non è chiara La cosa Capisco C'è ancora Sono insediati da poco Quindi confusione Cercheremo di far luce Su questo Nel prossimo mese È importante Un confronto C'è una ragione Concordo Quando dice Perché i due sindaci Non li incontrano insieme Io penso che Fanno e Pesaro Debbano sempre più collaborare Sempre più ragionare Io sono sotto questo aspetto D'accordissimo Fra l'altro Sono stato promotore Anche di un Protocollo Di intenti Su alcuni argomenti Da seguire Insieme Mi sono sempre prestato In questo senso Alcune volte Sono stato seguito Alcune volte Ci siamo mossi In maniera autonoma Quando ci muoviamo In maniera autonoma Penso all'arretramento All'offerrovia Penso alle grandi Infrastrutture Ci indeboliamo Quindi Se pensiamo Sono due realtà Molto vicine Due realtà Insieme Se si muovono insieme Diventano la prima realtà Delle marche E quindi anche Con una forza Considerevole Abbiamo già un'altra Telefonata per lei Però vado a leggere Ancora qualche altro messaggio Dunque Ci dicono Dissuasori Oppure Sansunico All'imbocco Tra via Flaminia Via località Chiaruggia E via vittime Di Nassiria Poi strade distestate Ma anche molto trafficate Tra cui Via Naudi E la statale All'altezza della Comet Quindi in questo caso Richiedono l'asfaltatura Via Sorelle Moreglia Cucurano Stesso discorso Per l'asfaltatura Ma anche piante Che coprono lampioni Alcuni problemi Con i parcheggi Sindaco Continuerete ad occuparvi Solo del colore Dei parcheggi Avete anche intenzione Di sistemare Qualche strada Ridotta a quella brodo Mi riferisco Al mio quartiere Paleotta Dove il tratto Di via della giustizia Da via della giustizia Al cimitero È impraticabile Pericoloso Anche per la velocità Delle macchine Noi abbiamo un piano Ovviamente lo ricordo spesso Sono 400 km Di strade Che abbiamo Nella nostra città Nei sei anni precedenti Ne abbiamo asfaltato Oltre 110 km Io penso che Non si sia mai visto Un intervento Così consistente In pochi anni Nella nostra città Continuiamo Ovviamente Le strade che hanno bisogno Sono tante Perché alcune Sono oltre 30 anni Che non vedono Una manutenzione Come quelle Sulla quale siamo intervenuti In tanti quartieri Lo stesso avevano Tempistiche di questo genere Per quello che riguarda La zona Paleotta C'è un tratto Veramente impraticabile Che è quello Dopo il cimitero Che porta In Viale Kennedy Vicino al parcheggio Dei camper Quello fra l'altro È previsto Nelle prossime asfaltature Lì è previsto Anche un intervento Di risistemazione E di ampliamento Di quel Parcheggio Fra l'altro Quella è una strada Molto utilizzata Dai ciclisti Per chi va Verso la zona male Verso il centro Venendo da quel quartiere Passano tutti Lì davanti E devo dire Effettivamente Con le biciclette Ha un certo Livello di rischio Quindi È giusto E Ho più volte Richiesto L'intervento E quindi Mi hanno garantito Gli uffici preposti Che lo inseriscono Nelle Prossime Interventi Sentiamo che c'è In linea Dovremmo averla Giusto regia Eccola qua Buonasera 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 Dunque io vorrei chiedere Al sindaco Che aveva annunciato All'inizio Del 2019 La realizzazione Delle colonnine Per la ricarica Delle auto elettriche Che fine hanno fatto Perché non si vedono Sì Ha ragione Perché avevamo Siglato un protocollo Con Enel Per la realizzazione L'installazione Di 18 Colonnine Per la ricarica elettrica Posizionati un po' In tutto il territorio Della città Quindi da Ponte Sasso Centro E sono ancora ferme Devo dire la verità Adesso Fra l'altro Prima del lockdown Avamo ripreso anche i contatti Per accelerare Però la cosa È sempre sul tavolo Poiché non è che Le installiamo noi Era un accordo Se non ci sono le colonnine Diventa difficile Usare le macchine elettriche Ha perfettamente ragione Fra l'altro È un incentivo Sulla quale stiamo lavorando Anche noi Quindi la ringrazio anche Per avermelo risolecitato In modo tale che Lo riprendo anche Come impegno A riattivare subito A sollecitare L'intervento E un'altra cosa Vorrei ricordare Che mi pare Che nel piano Di realizzazione Del parco urbano Dell'aeroporto Ci sia anche La realizzazione Di una zona Per i cani Quindi uno sgambatoio Per i nostri amici A quattro zampe Che è molto sentito Dai proprietari Dei cani Che già utilizzano Quell'area Lasciando i cani liberi Cosa che non dovrebbe Essere fatta Quindi disciplinare Un po' anche Questo sgambatoio Sgambatoio Ha perfettamente ragione Adesso ne abbiamo Programmati altri due Perché ogni anno Vorremmo programmarne Due nuove Aperture di sgambatoio Sgambatoio Ne avevamo Realizzati due Due anni fa C'è esigenza Un po' in tutti I quartieri Perché tutti Vogliamo bene I nostri amici A quattro zampe Io stesso Ne ho uno E quindi so cosa Significa averli Ma c'è anche La necessità Di dare la possibilità Di muoversi E siccome Qui sono presenti In tutta la città In alcune zone Verso la campagna Più semplici Gli spazi ci sono Più ci si avvicina Nella città E più è complicato Anche perché i cani Non possono girare liberamente C'è chi ha paura Possono creare dei problemi Quindi lo sgambatoio Diventa Un servizio Importante Quindi sono già Stanno già lavorando Per realizzarne Due nuovi A breve E anche Nella zona Del campo Ci c'è Quella zona di San Lazzaro Vallato C'è l'esigenza Continuiamo Il nostro botte risposta Invece delle telecamere È meglio pulire La città Le dicono E poi ancora Volevo segnalare La priorità Della pulizia Raccolta delle foglie Soprattutto E la manutenzione Di ciò che è esistente Piuttosto Che la realizzazione Di nuovi e costosi Decori Sulle rotatorie Telecamere In via De Borgoggelli Sono previste? Adesso Via De Borgoggelli Non ce l'abbiamo Adesso Magari valutiamo Se può avere Una priorità Rispetto ad altre zone Certo Chiedono anche Sul teatro romano Se ci sono Delle mobilità No però Lì via De Borgoggelli Lì ce n'è una Già Che non dà Proprio sulla via Ma riprende La zona Più su via Sì però C'è già una telecamera Teatro romano Sindaco Se ci sono delle novità O comunque la pandemia Ha bloccato un po' No proprio questa mattina Ho fatto un sopralluogo Insieme alla sovrintendenza Perché ci stiamo muovendo L'obiettivo è renderlo Visitabile Per lo meno Gli scavi Alla cittadinanza Per gruppi organizzati In sicurezza E stiamo stanziando Anche delle risorse Per Ma è già in questa Variazione Che porteremo a fine mese In consiglio Per fare dei saggi Per esplorare Anche nelle altre zone Coperte Se ci sono altri patrimoni Altri Altri elementi Di importanza archeologica Da preservare E abbiamo Con questa variazione Anche affidato L'incarico Per fare Le indagini statiche Sullo stabile Che abbiamo acquisito Che è l'ex Finlanda Queste diventano Analisi indispensabili Per fare Qualsiasi scelta Successiva In base a quell'esito Inizieremo A dare Una progettualità A quel contenitore Che diventa Veramente Un'occasione Straordinaria Per la città E soprattutto Si rimette A disposizione Della città Anche i resti Del teatro romano Sindaco La caserma Dei vigili del fuoco Sono tre anni Che la promettete Non è che Sono tre anni C'è fatta E' già stata Individuata La ditta Che deve Realizzarla E io spero Di arrivare A prestissimo Alla posa Della prima pietra Abbiamo una telefonata Pronta per lei Sentiamo chi c'è in linea Buonasera Buonasera Prego signora Io sono Una signora Con su di Carrara E Propriamente Le ultime case Di Carrara Parlo Nome di tutti I cittadini Che abitiamo Qui in questa zona Che sarebbe Località Carrara Che porta oltre Poi la strada Via Vittime di La Siria E noi chiediamo Questo Alle macchine Che si mettono In questa strada Che è località Carrara Che prosegue Poi per via Vittime di La Siria Vanno giù Ad una velocità Non normale E chiedevamo Se era possibile Verificare Se mettere Dei disfasori Qualcosa Perché vengono su E non lasciano La precedenza C'è il segnale C'è tutto E non lasciano La precedenza Perché viene Dalla Flaminia È un disastro Quindi parlare Non si può parlare Perché è impossibile Perché non sai mai Chi ti trovi davanti E per cui è così Poi dopo Abbiamo un'area Dove Dovrebbe essere Un'area ecologica Diciamo Vicino al Fossoli Ma A parte i cassonetti Sì che ci sono Ma Tutte le immondizie Che lasciano in giro Quindi chiedevamo Se era possibile Fare Una Verifica Venire a vedere Perché Sinceramente Vediamo Di tutto Vediamo di tutto Dai computer Televisori Materazzi Maglie Incianguinate Scusi A quale area Isola ecologica Si riferisce? A quale Nello specifico Di isola ecologica Si riferisce? Allora L'isola ecologica Praticamente È un Pezzetto Diciamo Di terra Che è sotto il ponte Proprio sotto il ponte Qui a Ponte Murello Ah Cosù Sì Lì Buttano le bottiglie Addirittura anche i sacchetti Tutti fuori dai passonetti Cioè Non hanno nessun riguardo Adesso io È fatica anche Prendere il numero Della targa Magari anche se li vedi È difficile parlarne È difficile parlarne Prima c'erano le telecamere Ma adesso non c'è più niente Non lo so Noi ci sentiamo dimenticati Sinceramente Se potete Effettivamente Venire a fare una verifica Cioè Saremmo contenti Grazie per la segnalazione Sindaco Sì In quei casi Lo strumento migliore È la telecamera Puntata sull'isola ecologica Abbiamo visto dove le abbiamo messe Hanno portato buoni risultati Ma se non sbaglio Le avevamo già messe Perché poi vanno a rotazione Poi sono mobili Sì Può essere un incettivo Teniamo un periodo Poi le spostiamo In un'altra isola ecologica Comunque adesso Mi andrò A fare una verifica Tra l'altro Sempre a Ponte Murello Che devono più controlli Andiamo avanti Con le segnalazioni Le bici a noleggio Verranno ripristinate Sindaco oppure no Il buy sharing Sì Stiamo lavorando su un progetto Perché supera quelle esistenti Che onestamente Non sono state Molto utilizzate Fra l'altro è abbinato Anche al progetto Deliti Il recupero del Sant'Arcangelo Adesso siamo Nella fase della progettazione Esecutiva La fattibilità È già stata Realizzata C'è stata l'ultima conferenza Di servizio Che è andata bene Quindi adesso Siamo nella fase nuova È abbinato a questo progetto Anche Quello del buy sharing Con nuove biciclette Ci stava lavorando L'assessore Per cui Adesso non so dare Delle scadenze Però insomma Stiamo andando In quella direzione In via seconda strada Bellocchi Sono necessarie Le potature Pieno di erbacce rovi Tant'è che due auto Che viaggiano in senso opposto Non riescono a passare Una è costretta A fermarsi Proprio per evitare Di rovinare La macchina Ho già segnalato Il problema Sia al comune Che ad Aset Ma qua Non si vede nessuno Probabilmente Non lo sono segnato Di Aset Mi chiamo Maurizio Per questo problema Avevo chiamato la volta scorsa Però il sindaco È stato un po' vago Volevo chiedere Se nel punto Tra Cucurano E Rosciano Che è senza illuminazione Ed è pericoloso Il comune ha intenzione Di fare qualcosa Sì Quello è un tratto Di strada provinciale Penso se non sbaglio Avevo risposto Anche la volta scorsa Noi non abbiamo In programma Dell'ampliamento Di punti luce In quel tratto Lo abbiamo in altre strade Adesso io Questa segnalazione La rigiro Alla provincia Ok Andiamo avanti Buongiorno Sono Alberto Proprietario di un appartamento In via Fratelli Zucari Zona Baia Metauro Volevo sapere Se è prevista Una riqualificazione Della zona Come la pulizia Dell'ex pista De Gocart Oppure una pista ciclabile Che comunica Comunica La Baia Alla Sassoni Insomma Mette in connessione Queste due zone In maniera dignitosa Ha ragione Per quello che riguarda La pista ciclabile Dice il progetto Fano Senigallia Come c'è stato Fano Pesaro Abbiamo iniziato Da Ponte Sasso Venendo giù Proseguiamo Con le progettazioni Con Ci siamo già candidati Per altri tratti Per avere Ulteriori finanziamenti Per quanto riguarda All'area dell'ex Piste Gocart Lì c'è un intervento Previsto Fermo da tempo Già stanziato C'è il progetto Esecutivo Purtroppo Quando sono più enti Che dialogano tra loro In questo caso C'è Comune Che ha fatto Tutto quello Che doveva fare Ripeto Il progetto Esecutivo Approvato Regione e Ministero Sono tra Regione E Ministero Che si scambiano Delle firme E i soldi Sono fermi Lì pronti Da essere utilizzati Quindi Ho sollecitato Anche la settimana scorsa Il dirigente Della Regione Affinché Si faccia Questo ulteriore passaggio Per poter avviare La gara D'appalto Chiedono La pulizia Della foce Del Metauro Anche se in questo caso La competenza Non credo sia Del Comune La passeggiata Di via Visconti A Sant'Orso Che sta diventando Una giungla Così come Il parcheggio Scambiatore Di Chiaruccia Che è una Discarica Cielo Aperto Poi chiedono Per gli asfalti Di via Ferriano Perché Veramente Disastrate Lo richiedono Da tempo Poi via Bellandra Lo stesso Quando verrà Asfaltata E anche la strada Per il cimitero Di Roncosambaccio Rientrano In quel piano Di asfalti Adesso rispetto All'ultima volta Che me l'hanno chiesto Non è cambiato nulla Perché Ovviamente Qui si passa Di un anno in anno Con finanziamenti Stanziati Con Gare Che devono fare Dicevo Ancora Dobbiamo ultimare La gara Per l'ultimo Stanziamento Purtroppo Gli appalti Sono tanti Questo È un buon segno Significa che Stiamo lavorando In questa direzione Poi Ovviamente Anche l'ufficio Che ha Un po' Limiti di organico Sta dando il massimo Inevitabilmente Occorrono anche i tempi Perché poi le gare Non si fanno In una settimana In due giorni Richiedono delle procedure Delle verifiche Sono cose serie Quindi Andiamo avanti Insomma Segnalo lo stato Di abbandono Di via Fabio Filzi A Lido Marciapiedi Pieni di buche Ma anche avvallamenti Che risalgono Probabilmente Ci dicono Agli anni 60 Anche l'impianto Di illuminazione Avrebbe bisogno Di un restyling Beh anche lì Sull'illuminazione Siamo intervenuti In gran parte Del Lido Rinnovandola Cambiandola Nelle vie principali Dobbiamo estenderla Fra l'altro Stiamo ragionando Ferrovie Sta facendo anche Un nuovo progetto C'è già stato Gli abbiamo chiesto Di migliorarlo Di allargarlo Ulteriormente Del sottopasso Pedonale Di Viale Cairoli E' chiaro Che in quel contesto Mettiamo mano Anche al resto Vediamo un attimo Se abbiamo delle foto Pronte Sì Le facciamo vedere Eccole qua Queste foto Che ci hanno inviato Oggi pomeriggio Si riferiscono A Rosciano Sono state scattate In quel quartiere Per segnalare Il fosso Della strada comunale Del giardino E' una giungla Ci hanno scritto E l'acqua stagnante Emana un odore orrendo Abito a pochi metri Non è piacevole Ci sono topi Bisce E rifiuti abbandonati Possiamo vedere Anche nelle immagini Successive Dei fatti Scusa Fosso Rosciano Ci dicono esattamente Il fosso Della strada comunale Del giardino Ah ok Ecco Questa è una segnalazione Che ci è Arrivata nel pomeriggio Poi dopo la pubblicità Sindaco Le faremo vedere Anche una video segnalazione Però credo che Ci dobbiamo Fermare per qualche istante Di pubblicità E poi torniamo qua A leggere tutti i messaggi Dei nostri telespettatori A tra poco Bentornati in diretta Sono in compagnia del sindaco di Fano Massimo Seri Le dicevo sindaco di questo video Una video segnalazione Che è arrivata oggi E che si riferisce al ponte della Cerbara Ogni giorno passano camion a pieno carico Da 40 tonnellate Nonostante il divieto Del loro passaggio Un divieto che però A quanto pare manca Guardiamolo insieme Ecco Guardate l'ennesimo camion A pieno carico Che sta passando Sul ponte della Cerbara Dove c'è il divieto di transito Per i tir a pieno carico Per questo pesa 44 tonnellate Vedete che non c'è un divieto Venendo da Fano Direzione Piagge Verso la Cerbara Non c'è un divieto Per questo tir a pieno carico Di oltrepassare il ponte Ok Questo è l'ennesimo tir Che tutti i giorni Oggi è questo Ieri era un altro Ieri l'altro era un altro ancora Che transitano comodamente Sul ponte Qui io chiedo alle autorità competenti Gentilmente Di intervenire Prima di vedere un'altra strage Come Genova Cosa vogliamo fare? È ora di fare qualcosa? Mi appello a qualcuno Grazie Ecco in questo caso Sindaco il Comune di Fano Può fare qualcosa? Adesso La regia se mi gira il video Lo giro subito Sia alla Polizia Municipale Sia all'Ufficio Viabilità Per capire anche se è comune Appunto di Fano Sì adesso La strada Il tratto è comunale Siamo proprio nelle zone di confine Vediamo Insomma Lì è un quartiere anche attivo Ci sono Ci ha creato un comitato Hanno lavorato anche su delle proposte Di riorganizzazione Di risistemazione Fra l'altro Io credo molto Negli spazi Nei quartieri Spazi verdi Attrezzati Nei quartieri In questi anni Siamo intervenuti In una trentina di parchi Nei vari quartieri Stiamo proseguendo Abbiamo stanziato altre risorse Quindi anche il Parco delle Rose Rientra nell'attenzione Quindi ripeto Mi hanno già avvertito Che c'è anche una proposta Quando ci sono proposte valide Noi le facciamo proprio E poi ci lavoriamo Poi ovviamente Dobbiamo fare sempre i conti Con le nostre capacità di intervento E nelle tempistiche Quando si prevede di installare La segnaletica ben visibile Per far sì che autotreni E autoarticolati Non entrino più Nel centro abitato di Bellocchi Anche questo è un problema Con i mezzi pesanti Quindi evidentemente C'è una piccola mancanza Per favore La promessa Fatta ormai un paio di anni fa Per i due lampioni Sulla pista ciclopedonale Nei giardini di Via Del Ponte Nei pressi Della scuola dell'infanzia Che fino hanno fatto Sì abbiamo Via Ambrosini Sì Abbiamo proprio stanziato Mi sembra un mesetto fa Con delibera di giunta Proprio l'intervento Di questi Che poi non sono due Penso siano Qualcuno in più Però insomma È già programmato Visto il nuovo codice Della strada Per i residenti I residenti Delle via Abbazia Canale Albani 4 Novembre Papiria Negusanti Monte Grappa Chiedono L'applicazione Del limite Di 30 km orari Perché strade cittadine Ad alta densità abitativa Insomma presenza di scuole Inoltre il codice Della strada Per il rispetto Di pedoni ciclisti Consente anche La riduzione di carreggiata E l'installazione Di autovelox Quindi 30 km orari Qui se fosse possibile Tra l'altro lo richiedono Da tanto tempo Una segnalazione Che ci è arrivata ormai Anche qualche mesi fa E poi A Fenile Di fronte alla scuola primaria Le strisce pedonali Per l'attraversamento Degli alunni Sono state rimarcate Ci scrivono bene Però Non è stato aggiunto Il segnale Sempre del limite Dei 30 È necessario Perché i mezzi Corrono sempre Abbastanza veloci Quindi cittadini Che ci chiedono Di prendere questi No ma hanno perfettamente ragione Sta nella nostra filosofia Noi stiamo facendo Zone 30 in tutti i centri abitati Proprio per ridurre La velocità Specialmente dove ci sono Anche bambini Che attraversano La strada Concordo pienamente Adesso mi stupisco Che non sia ancora fatto Però insomma Provvedo a segnalarlo Sentiamo subito Chi c'è in linea Buonasera Buonasera Salve signora Prego Buonasera Signor sindaco Sì L'ascolto Buonasera Ascolti Io abito a Torretti di Fano Sì In via Carrà Proprio defonte All'ex Fantasy World Sì Guardi Lì non è stato mai pulito Tutto quell'affare Lì sono Io ho la casa Piena di topi Sì Inciò volevo dire Se potevate pulire Potevate portare via Tutte quelle robe lì Così in modo da Di fronte al Fantasy World Sì Ma lei si riferisce Però alla zona di Fantasy World Dove sono stati portati A suo tempo I fanghi Che non sono stati portati via Giusto? Sì Tutti Deposita Tutti i fanghi Allora Intanto l'aggiorno Perché Questa è una storia lunga Sulla quale mi sono veramente impegnato E penso Che ho rischiato la denuncia Per stalking All'autorità portuale Perché io ogni lunedì mattina Faccio la telefonata E noi nel 2015 Avevamo già fatto la gara Per portare via quei fanghi L'autorità regionale Portuale regionale E la regione Ci hanno fatto revocare Quella gara Perché Io dico anche giustamente Conveniva farlo fare L'autorità portuale Che interveniva Non soltanto per Fano Ma anche per gli altri porti Regionali Perché questo È legato ai fanghi Poi Le tempistiche loro Sono state lunghe C'è stata Tutta la procedura gara Progettazione Problematiche Verifiche Analisi Insomma Ci hanno fatto impazzire E oggi Siamo finalmente Alla fase Conclusiva Anche qui Doveva essere Qualche mese fa Penso ormai Mese più Mese meno Dopo anni Non cambiano Le sorti del mondo È stata fatta la gara Ci sono tre ditte Che hanno partecipato Per accelerare Ho proposto io Due componenti Su tre Della commissione Tra cui Indirigente Del comune di Fano Dicendogli Guarda In una settimana Fate la commissione Visto che sono tre Ed è finita A chi affidare I lavori Di queste tre Ditte Che hanno partecipato Perché è finito quello La ditta Poi con le sue condizioni Di operatività Può iniziare subito Il trasferimento Quindi Siamo veramente Io penso Nell'arco Di 10-15 giorni La commissione Può definire Chi è la ditta Che vince Poi ci sono I giorni di attesa Onde evitare Che ci siano ricorsi E poi la ditta Nel momento in cui Penso 30 giorni dopo All'affidamento definitivo Può in teoria Partire il giorno dopo Con le operazioni Il nuovo tratto Di ciclabile Vicino alla rotatoria Dell'autostrada Sant'Orso Volevo sapere Di chi è la competenza Belle le strisce bianche Fatte ma sembra La giungla Quindi chiedono Se è possibile Un intervento E ancora per Piazza Marcolini Prevedete interventi Piazza Marcolini È un altro gioiello Della nostra città Io voglio Riqualificarla Ho già chiesto Alla struttura All'assessore Adesso perché Sto chiedendo Di realizzare Una serie di progetti Per essere pronti Perché arriveranno Risorse E come sempre Quando si aprono Queste finestre Chi è pronto Poi riesce a ottenere Risorse E quindi ci stiamo Adoperando Perché Piazza Marcolini Io nella mia testa Ho il sogno Di realizzare Un po' La momma trefanese Lì è una zona carina Con anche una serie Di locali C'era l'istituto D'arte Quindi il Palazzo Marcolini Ha anche una sua vocazione Che va mantenuta E va recuperata Per cui La direzione È quella Chiedono anche Una velocità ridotta In via della colonna Perché insomma Le macchine sfrecciano Sentiamo che c'è in linea Buonasera Buonasera Simona Buonasera Signor Sindaco Volevo intanto Rinnovare gli auguri Di buon copre anno Grazie Ecco Sono Mastro Giacobbi Ci eravamo sentiti Un mese fa Per quanto riguardava Le scogliere Diceva che Sarebbero partite A giorni Però a distanza Tutti i due mesi Ancora non si è visto nulla E poi volevo chiederle Anche per quanto riguarda Il Dei fondi Che aveva trovato Signor Binardi Dalla regione Per quanto riguarda Le scogli Quando verranno Poi utilizzati Ecco Spero prima dell'estate La ringrazio Sì Prego E allora Ponte Sasso C'era un piccolo intervento Con risorse destinate Abbiamo detto di partire Poi con l'arrivo dell'estate Ovviamente Non si può intervenire Durante la stagione estiva L'ufficio mi aveva garantito Che le avrebbero Messe subito In azione Poi ci sono le altre risorse Che avevamo avuto Come finanziamento Altri 4 milioni Sempre per la parte sud In modo particolare La zona di Metauriglia Queste Adesso siamo nella fase Abbiamo concluso Tutto l'iter Tutta la progettazione Anche la via Quindi Con il progettato Delle opere Pubbliche È andato tutto bene E quindi adesso Siamo peronti Per la gara d'appalto Sindaco Le chiedono a quando I lavori di riqualificazione In Viale Cairoli E dal Darsena Borghese Anche lì c'è un bel progetto Sì Allora Darsena Borghese È stato pubblicato il bando Per il primo tratto Viale Cairoli Lo dicevo prima Siamo con RFI Hanno già Fatto il progetto Definitivo Per quello che riguarda Viale Nazario Sauro L'altro Gli abbiamo chiesto Di rivederlo Per ampliarlo Perché non ci convinceva Troppo Hanno accolto E quindi stanno Lavorando Sul esecutivo Di quel Sottopasso In questi giorni Stiamo dialogando Con la direzione regionale Per la stipula Della convenzione Che purtroppo Dovevamo farla L'anno precedente Ma anche lì Ci sono stati avvicendamenti Delle direzioni E quando si cambiano I direttori Poi bisogna sempre Ricominciare Da capo Fra l'altro Adesso ci sono Anche i nuovi consiglieri Regionali Che possono dare una mano Anche a snellire Perché con RFI Anche la voce Della regione Aiuta molto Buonasera sindaco Scrivo per evidenziare Ancora una volta La notevole criticità Presente a Centinarola Lungo la via Monfalcone Dovuta al perdurare Dell'alta velocità Con cui le auto Percorrono questa via Quella è un'altra zona 30 Bisogna fare Esatto Inoltre segnalo La pericolosità Per gli utenti Dovuta alla presenza Delle isole verdi Sempre lungo la stessa via Pista Zengarini Anche qua ci sono Delle belle novità Beh Adesso non so se saranno belle Nel senso Noi abbiamo preparato Il progetto esecutivo Per la riqualificazione In sistemazione della pista Che ne ha bisogno Da tempo E abbiamo partecipato Con quel progetto Al bando Periferie e sport Con la speranza Che ci possa essere finanziato Fra l'altro Gli impianti come questi In giro perità Non ce ne sono tantissimi E quindi penso Che abbiano una priorità In passato Abbiamo avuto Altri finanziamenti Per esempio La riqualificazione Del circuito Marconi Che è intorno Alla pista Zengarini Abbiamo avuto Un finanziamento Per uno spogliatoio Di un impianto sportivo Quindi adesso Attendiamo La risposta Del bando Insomma Ci scrivono in tanti Per dire Intanto grazie Perché renderete Gratuiti i parcheggi Nel mese di dicembre Per tre settimane Però non condividono Questa scelta Di metterli a pagamento Perché insomma Sono importanti In particolare Per le attività Del centro storico Chiedono anche La pulizia Del torrente Arzilla Ma abbiamo Una telefonata per lei Pronto Pronto Buonasera 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 Signor Sindaco L'ascoltiamo Ecco Volevo Ringraziarla Per l'impegno Dei lavori Di Futuri Di Viali D'Antalighieri Grazie In modo che I cittadini Percorrono Questa strada In sicurezza Io ho sempre Chiesto I marciapiedi Ma se non si possono Fare pazienza Almeno Almeno un po' Di sicurezza Per chi Percorre Questa Via Massimo D'Azeglio Poi volevo Chiederle Siccome Tra Viali D'Antalighieri E Viale Adriatico Via Massimo D'Azeglio Via Massimo D'Azeglio Quando piove È impossibile Attraversarla Questo è un grosso Problema Perché Ci sono due Pozzetti Ma con 50 litri Di acqua Non ricevono Più l'acqua Il secondo Problema Sempre di questa Piccola via Via Massimo D'Azeglio È il parcheggio Una volta C'erano Il divieto di sosta Lì Prima Sarà 20 anni 25 anni fa C'era il divieto di sosta Tutte e due i lati Non essendoci più Il divieto di sosta Parcheggiano A A A Spina E Due macchine Grosse Di 5 metri l'uno Blocco nel traffico Passa solo Una smart Mi sono trovato Un giorno A bloccare il traffico Di Viale Adriatico Perché un camper Doveva tornare indietro Perché non passava Per cui Questo è l'estate E È un pezzo di strada Abbandonata a se stessa Grazie Sindaco Sì Ce l'ho presente Ha ragione Quando una ragione Ha ragione No Lì andrebbero messi Il divieto di Parcheggio Adesso non ricordo Se è in Parcheggio In entrambi i lati O soltanto Ma penso Percheggio In entrambi i lati Quindi bisogna Che interveniamo E per Il problema Dell'allagamento Adesso Provo a capire Se riusciamo A fare la pulizia Delle caditoie Ma penso Che il problema Sia un po' più Complicato Non sia semplicemente La pulizia Delle caditoie Però adesso Faccio fare Una verifica Appropriata Ci dicono Ci dicono anche Che in zona Paleotta Diverse vie Presentano Buche Avallamenti Torniamo un attimo Nel centro storico Per parlare Di parcheggi Perché dicono Visti Questi nuovi cambiamenti Chiedo se c'è La possibilità Di aprire la caserma Intorno alle 5.30 Siamo in diversi Ad arrivare in centro Per andare a lavoro E non troviamo posto E quindi Bisogna lasciare Anche le auto Lontane Forse il problema È per i volontari Della protezione civile Che vengono a presidiare Stiamo già ragionando Anche con l'assessore Per ampliare L'utilizzo Per parcheggiare All'interno Della caserma Poi lì sulla caserma Adesso stiamo Cercando di rielaborare Un progetto Di valorizzazione Per poter Intervenire E lì c'è anche Lo spazio Qualcuno ragionava Anche Di uno spazio Ulteriore Per parcheggi Anche Sotterranei Ecco Lo stiamo Verificando Insomma Può essere Un'ipotesi Però Nell'immediato Stiamo ragionando Di estendere L'orario Per consentire Il parcheggio All'interno Della caserma Ci chiedono I marciapedi In via Le Cesare Battisti Poi via Girolamo Da Fano Se è in programma Qualcosa Per i pedoni Che vanno Verso il Lido E un'altra Segnalazione Buonasera A causa Dello smart working Quindi del lavoro Da casa Dei tecnici comunali In particolare Della sezione urbanistica Ci sono ingenti I ritardi Di mesi e mesi Nel rilasciare Dei permessi C'è la possibilità Di trovare Una soluzione A questo problema Beh Lì c'è Il problema Sono diversi Anche quello Dell'organico Adesso speriamo Il dirigente Mi ha garantito Che i primi di dicembre Ci sarà Un nuovo ingresso Dovremmo Avere Un'ulteriore presenza Di nuove Tecnici Sia tra lavori pubblici E urbanistica E questo Solleva Alleggerisce Il lavoro Perché c'è un problema Con lo smart working Che inevitabilmente Rallenta un po' Ma c'è anche Un problema di organico La ringraziano Per aver verificato Anche la pulizia Nella zona Tre Ponti Lungo il canale Albani Chiedono l'asfaltatura Delle strade Di Ponte Sasso E in particolare Del foro Boario Abbiamo una telefonata linea Giusto Cristiana Sì ce l'abbiamo Buonasera 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 signor sindaco Parli pure Siamo qua che l'ascoltiamo Da Centinarola Precisamente Da via Montfalcone Per segnalare Insomma che questa via È una via molto A mio avviso Pericolosa Le strade Le macchine Passano Molto spesso Ad alta velocità Questa è una via Dove è presente una chiesa È presente un parco giochi Però non abbiamo Insomma questa Questa alta criticità So che anche lei Ha intervenuto qui a Centinarola Circa due anni fa Durante un meeting Un incontro Che ha avuto qua Nella parrocchia Per parlare di queste cose Avamo chiesto anche Che i cassonetti Ci sono due isole verdi Lungo questa via Avamo chiesto Lo stesso di essere spostate Perché Quando insomma Gli utenti Si accingono A svuotare carri L'artoplastica Si ritrovano In mezzo alla carreggiata E questo a mio avviso Non è Non è Sicuro per niente E quindi Ho chiesto anche ad Aset Io circa Due o tre settimane fa Di Ho segnalato questa cosa Appunto per Chiedere lo spostamento Di questi cassonetti Il tutto era fatto Protocollato In comune Circa due anni fa Però ecco Ad oggi Non è stato Fatto niente Cioè a mio avviso Questo qui si parla Di sicurezza Degli utenti Delle persone Quindi Qualcosa Potrebbe essere fatto Sì Ricordo perfettamente Anche gli impegni Che mi ero assunto Tra gli impegni Che racchiudeva Tutto questo C'era il progetto Quartiera a misura Di bambino Come abbiamo fatto A Centinarola Abbiamo fatto anche i primi incontri Anche con i rappresentanti Dell'associazione Che fra l'altro è molto attiva A cui va i complimenti Per il buon lavoro Che stanno facendo Che hanno fatto E stanno facendo Solo che purtroppo Dobbiamo sempre farlo Dobbiamo sempre farlo Dobbiamo farlo a remoto Quindi un po' di problemini Ci sono Abbiamo individuato Anche una persona Che può coadjuvare Aiutarci Nell'elaborazione Di questo progetto Che abbiamo visto Funziona E dà delle buone risposte Apprezzato dai cittadini E quindi Quello nuovo Doveva riguardare Doveva Deve E riguarderà Centinarola Erba alta Bellocchi La strada di Rosciano Che viene dal cimitero Che è dissestata E ancora in fondo Alla via Luigi Motta Di Ponte Sasso C'è un pino Le cui radici Vanno a finire Quasi sulla nazionale Ecco però In questo caso Forse Bisogna vedere Perché si tratta Anche di piante protette Le telecamere Possono anche servire Ad individuare I padroni incivili Che non raccolgono I bisogni dei loro cani E quindi iniziare A multare Anche Queste persone Su questo c'è Un sistema Che a me piacerebbe Applicare E cioè Fra l'altro C'è un bel centro Qui a Fano Di giovani Che mi hanno presentato Anche una proposta Che io valuto Molto interessante E quella del DNA Dei cani Quindi lì Dopo non si sfugge più Perché basta Fare un'analisi Si vede Chi è il cane Il proprietario Si fa la multa Sarebbe però Insomma significativo Fare Solo che richiede Un po' di interventi Chi ha il cane Dovrebbe fare L'esame del DNA Adesso ci stiamo Ragionando Ci ringraziano Anche per le risposte Che lei sta dando Sindaco Vorremmo avere più controlli In via località Bellocchi Verso Falcineto Praticamente Ex campo da calcio Ora Sgambatoio Abbiamo troppa Velocità Quindi servirebbero Più dosi Ci vado a correre Ogni tanto Quando posso Lo vedo anche In prima persona Bagni pubblici In città Si può fare qualcosa Si può fare tutto È un'altra cosa No Adesso al di là Delle battute È un problema vero Ce l'ho nella mia Agendina rossa Dove ho tutte le cose Da fare Chiaramente poi Nei centri storici Non è semplicissimo Installare nuovi Bagni pubblici Perché Ovviamente I centri storici Come i nostri Hanno delle peculiarità E hanno delle complessità Però L'esigenza c'è Perché una risposta Va data Non si può costringere La gente A andare esclusivamente Negli esercizi Se uno ha bisogno Deve avere anche Un bagno pubblico Ultime domande per lei Le chiedono Il progetto Waterfront Ci sono delle novità Sul bando di idee Che doveva partire A marzo 2019 Sì È l'ufficio Appalto i contratti Ho chiesto Che devono farmelo uscire Entro il mese di novembre Dovevo uscire I primi di marzo E lì siamo stati Bloccati dal lockdown Ci sono le risorse Che avevamo destinate Dobbiamo Impegnarle entro l'anno Ma soprattutto Voglio Che venga Emesso Entro il fine di novembre Perché altrimenti Perderemo ulteriore tempo E non riuscirei A mantenere l'impegno Entro il mandato Perché l'obiettivo È avere queste due Proposte Di idee Sono due I bandi Uno riguarda Dal Metauro Fino a Fosso Segiore E l'altro Torrette Ponte Sasso Con l'impegno Di fare Ovviamente Come col parco Dell'aeroporto Si fa il progetto Integrato E poi si interviene Per stracci Poter intervenire In primo straccio A sud In primo straccio A nord Sindaco Ci stanno giustamente Dicendo Che per molte cose Non sta rispondendo Noi andiamo molto veloci Perché abbiamo davvero Centinaia di messaggi Ci sono determinate Segnalazioni Per le quali Il sindaco Non può fare altro Che prenderne atto E mandare qualcuno A verificare Quindi una risposta Immediata Non può esserci Il progetto Waterfront L'abbiamo detto Ma c'era una domanda Molto interessante Che mi piaceva Eccola qua Perché non si abbelliscono Le rotatorie Con l'aiuto dei carrizi Del carnevale Come a Viareggio Sarebbe bello Non l'abbiamo parlato Tante volte Eppure ancora Questo progetto Sì Sarai soffrato Arriveranno Sono già arrivate Altre 13 nuove rotatorie Che dovremmo gestire Questa è una Delle nostre pecche Adesso Inizieranno i lavori Per altre due nuove rotatorie Per abbellirle Quella di Sant'Orsa Quella della Interquartieri Stiamo facendo Un ragionamento Aspettavamo anche Il termine dei lavori Di queste nuove rotatorie Per fare un pacchetto unico Dove possiamo intervenire Ci sono anche alcuni privati Interessati ad aiutarci Su alcune rotatorie Perché poi sono un bel biglietto Da visita E quando sono lì Con l'erba incolta Non sono un bel vedere Io questo lo comprendo Va a migliorare La qualità Anche la bellezza Della città Poi il contributo Può essere di diversi Tra cui anche Il carnevale È uno di quei temi Che nei rotatorie Possono essere richiamati Proprio perché è uno dei brand della nostra città Ma io dico non solo Anche altri Poi ci sono varie formule Varie progettualità Però venendo alla risposta Del telespettatore A breve usciremo Con una proposta integrata Chiedono anche L'illuminazione Dei passaggi Pedonali In via Roma Perché spesso Sono pericolosi Abbiamo visto anche In questi giorni Sì adesso noi Ne abbiamo illuminati Parecchi Partiti sempre con quelli Con maggior pericolosità E continueremo Con ulteriori installazioni Un'altra bella proposta È i bagni pubblici In zona mare Ad esempio Verso le spiagge libere Verso la pista di go-kart Altri comuni Tipo Senigallia I falconari Ne hanno Ogni 500 metri Questa lo stesso Può essere una bella idea Da far comprendere Nel waterfront Sindaco Siamo in chiusura Chiedo scusa davvero Per le tante altre persone Che ci hanno inviato messaggi Non sono riuscita a leggere Questo significa Che comunque Se viene una volta al mese Ben accetto Anzi A questo punto Diventa anche Poco lo spazio Che ci dedica Però volevo chiedere questo Perché lei oggi È stato eletto Vicepresidente Del forum Delle città Dell'Adriatico E dello Ionio Di che cosa si tratta esattamente? Beh questa è una cosa Importante Un ruolo di prestigio Sì Adesso Per me è un onore Perché quando Vieni chiamato A rappresentare Questi organismi internazionali È un riconoscimento Alla persona Ma è anche un'occasione Per la città Il forum Il forum delle città Dell'Adriatico E dello Ionico Comprende tutte quelle città È una rete di città Sul coste dei due mari Che stanno dentro La strategia Della macro regione Ionico-Adriatica Che significa Che è uno degli strumenti Importanti Della comunità europea Della comunità europea Dove girano anche molti Finanziamenti È un'area geopolitica Importante Lo vediamo sotto tanti fenomeni Intanto a cominciare Dal mare Adriatico Con le sue problematiche Ma c'è il tema Dell'immigrazione Insomma sono tante Le questioni E questa rete È comunque un dialogo Che queste città Tengono Fanno lobby Anche sulla programmazione Della comunità europea Sui finanziamenti Dei settenni Di pianificazione E quindi È un'occasione Per poterci lavorare Ma soprattutto Sono anche quelle occasioni Quando tu ci sei Hai anche la fortuna Di avere informazioni Di poterti inserire Su alcune progettualità Il fatto che Abbiano scelto me Per l'Italia Perché questa La presidenza È biennale E si alterna Un biennio È un sindaco italiano È un biennio È un sindaco Delle altre nazioni Della parte orientale E poi La prassi vuole Che il vicepresidente Faccia il presidente Nel biennio successivo Quindi dovrei poi Nel biennio successivo Essere presidente Ah bene Però ecco È un riconoscimento Anche per le attività Internazionali Che abbiamo fatto Io mi sono Su questo impegnato E anche una passata Questa cosa Si è candidato lei No E succede questo Intanto Quando mi sono Insediato Ma lo ricordavo In un messaggio Di congratulazioni Maurizio Tomassini Presidente delle Acli Che in quel periodo Mi accompagnò Proprio in regione Dal segretario Della macro regione Per chiedere informazioni Su alcune progettualità Su alcune progettualità L'ultima è Wonder È un finanziamento Di milioni e otto Sulla città di bambini Che riguarda la macro regione Ionico Adriatica E quindi Si sono indirizzati Su di me Questo mi ha fatto Piacere Sia come persona E poi anche Una bella esperienza Ma soprattutto Significa portare fano In altri contesti Sindaco Io la ringrazio davvero Per essere stato con noi E grazie ancora A tutti i telespettatori Perché le vostre segnalazioni Sono importanti Per appunto Riferirle al sindaco E cercare di rendere Migliore la nostra città Vi ricordo che Alle 22.30 Andrà in onda Al telegiornale Di mezzasera Domani mattina Invece l'informazione Alle ore 7 Con la rassegna stampa Sindaco grazie E auguri Per ieri Da tutto lo staff Di Fano TV Grazie E buonasera a tutti Buonanotte A tutti i telespettatori Buonanotte Sindaco Arrivederci